buongiorno a tutti volevo invitarvi alla lettura che seguiremo nell'ambito del congresso nazionale di gbd virtual di mercoledì 2 dicembre alle 15 e 30 che è intitolata the unsuitability to anti tnf drugs in cross disease patients when a different mechanism of action can help the clinician to research target è una lettura che tratterà della quota non irrilevante di pazienti con malattia di crohn che non hanno la possibilità per via di varie controindicazioni effettuare terapia con anti tnf e quindi possono beneficiare di un altro meccanismo d'azione per raggiungere i vari target obiettivi terapeutici siano essi clinici o endoscopici o di immagine nell'ambito della stessa lettura presenteremo anche i risultati di una survey a cui molti di voi hanno partecipato che viene proprio a descrivere l'atteggiamento dei differenti specialisti nell'ambito delle malattie infiammatorie croniche intestinali in italia in questo ambito vi aspetto